Per Lega Ambiente la scelta di Creti per la stazione per l'alta velocità è dispendiosa, l'opera è inutile e l'impatto ambientale per il consumo di suolo è troppo forte. Assolutamente non è un no all'alta velocità, per noi la rete ferroviaria è centrale e l'accesso dei territori di Siena, Arezzo e anche dell'Umbria alla rete è fondamentale. Non ci convince assolutamente la scelta di Creti perché è una cattedrale nel deserto, perché non ha un elemento fondamentale previsto anche dal regolamento europeo 1315 del 2013, cioè l'interconnessione ferro su ferro, non ci si arriva, non si riparte in treno semplicemente ma sarebbe servita solamente da mezzi su gomma, quindi esclusivamente da autobus autoprivate quindi con conseguente inquinamento perché c'è un consumo di suolo molto importante in un'area rurale tra l'altro a vocazione alluvionale quindi con un rischio, una pericolosità diciamo idraulica medio alta perché appunto il consumo di suolo è previsto di 20 ettari almeno ma poi ci sarebbero da realizzare parcheggi, reti viarie di interconnessione quindi è un investimento anche costoso, 100 milioni. Le cambiante Toscana, Umbria e i circoli sul territorio puntano invece al potenziamento del trasporto pubblico regionale con la riqualificazione delle stazioni di Arezzo e di Chiusi. Noi proponiamo invece di andare su un'opzione molto meno costosa che è il potenziamento delle attuali stazioni di Arezzo e di Chiusi che sono già adeguate appunto alle fermate di treni in alta velocità ma che con un potenziamento, con un investimento sul sedime si possono permettere di avere più fermate dell'alta velocità, di servire meglio i territori e anche si parla di una spesa che è circa un terzo rispetto ai 100 milioni previsti andare a potenziare e a riqualificare la rete regionale che ne ha un gran bisogno.